è la salita? ascolta prendila un po' più giù indietro 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 tanto c'è la valle col fiume sotto allora a zero a zero cos'è quella cosa lì? era un'indecisione tra vado non vado mi incastro mi fermo no salto basta finito oh ve la siete persa eh non è uscito proprio vado non vado salto no mi fermo no rallento sei incastrato nel sasso basta bravo frank piedi sempre sulle pedivelle eh no no si ma i piedi non li ha tolti dalle pedivelle però aperitivo amici aperitivo per me mi viene addosso per me mi viene addosso dai che c'è uno a mozzare non ti preoccupare per me mi viene addosso è già lì eh se vieni fuori bene viene fuori una foto la madonna spreciato va che te lo prendi in braccio dai che non abbiamo un altro tempo vai vai ah lucia ah lucia oi toni oh c'è la variante lui c'è la variante perché mi fate ridere perché c'è la variante ma lascia mi stare no e lui l'alza un casino sempre e dopo non la no dopo non la come il come a per di la prima è l'albuio ma adesso di giorno lo becchiamo